Gli RPM Filter su Betaflight Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare gli RPM Filter su Betaflight. Gli RPM Filter come suggerisce il nome sono dei filtri che si basano sui giri motore, e sfruttando il B-Directional D-Shot risultano essere molto precisi, facendo volare il nostro drone al meglio. Vediamo quindi i requisiti necessari per attivare questi filtri su Betaflight. Per iniziare ci serve un Flight Controller F4 o F7, infatti il B-Directional D-Shot non è disponibile per schede F1 o F3, poichè non più supportate da Betaflight. Per quanto riguarda la versione di Betaflight io vi consiglio di usare la 4.2 o superiore, perchè nelle versioni precedenti i passaggi da fare sono più complicati. Se volete attivare gli RPM Filter non ha senso stare con versioni più vecchie della 4.2. Per finire ci servono degli ESC che siano compatibili con il B-Directional D-Shot. Tutti gli ESC BL-Eli32 sono compatibili, purché aggiornati almeno alla versione 32.7. Se avete bisogno di aggiornare i vostri BL-Eli32 potete seguire il mio tutorial, vi lascio il link in descrizione. Se avete degli ESC BL-Eli32 si rende necessario installare un Custom Firmware, in questo caso abbiamo due scelte, J-ESC o Jets Maverick. Abbiamo già visto come installare questi firmware in due video dedicati, se ve li siete persi anche di questi trovate il link in descrizione. Una condizione necessaria per poter usare gli RPM Filter è conoscere quanti poli ha il motore, ovvero quanti magneti ci sono nella campana. In linea di massimo i motori per quad da 5 pollici hanno 14 poli, mentre quelli più piccoli ne hanno 12, tuttavia è sempre meglio verificare per essere sicuri. Prendiamo il motore e facciamo un segno sul primo magnete, poi giriamo e contiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici e quattordici, questo motore quindi ha quattordici poli. A questo punto possiamo collegarci su Betaflight e andare subito nella pagina Configurazione. La prima cosa da fare è attivare il B-Directional D-Shot che abiliterà immediatamente gli RPM Filter. In questo box qua sotto mettiamo il numero di poli che abbiamo contato prima, nel mio caso 14. Il resto delle configurazioni vanno fatte in base al processore della nostra scheda, che come abbiamo detto può essere una F7 o una F4. Le F4 a loro volta si dividono in due sottocategorie, abbiamo F405 ed F411. Partiamo dall'F7 che sono le schede più performanti al momento disponibili, e come vedete ho collegato una Zizz F7. Con una F7 mettiamo il protocollo D-Shot 600 e il PID Loop a 8kHz. Quindi salviamo. Come vedete il carico della CPU rimane appena al 2%. Spostiamoci nella pagina motori per verificare che non ci sia nessun errore. Per farlo dovremo collegare la batteria al drone e attivare il controllo motore, per questo motivo è importantissimo rimuovere le eliche. Dopo aver rimuo sulle eliche collegato alla batteria, attivo il controllo motore e porto il master un po' meno della metà. Come avete visto dopo aver azionato i motori la percentuale di errore è rimasta allo 0%, quindi è tutto ok. La percentuale deve rimanere allo 0% ma un minimo di errore, purché si rimanga sotto l'1% è tollerabile. Passiamo ora all'F4, in particolare una F405, possiamo riconoscerla perchè in questo punto troviamo scritto STM32 F405. Attiviamo BD di Shot, mettiamo il numero di poli giusto, selezioniamo Protocollo di Shot 600, e PID Loop a 8KHz. Spostiamoci nella pagina motori per verificare anche questa volta che non ci sia nessun errore. Rimuovo le eliche e collego la batteria, quindi attivo il controllo motore. Anche questa volta nessun errore, come per le schede F7 un errore sotto l'1% è tollerabile. Vediamo l'ultimo caso, le F411 che sono le meno performanti. Queste schede si trovano generalmente nei microdroni con FC ed ESC integrati. Come vedete qui abbiamo STM32 F411. Attivo BD di Shot. Qui metto 12 in quanto i motori di questo micro sono da 12 poli. Protocollo di Shot 600. E qui il massimo che si può selezionare è 4KHz. Come vediamo il carico della CPU rimane intorno al 10%. Spostiamoci di nuovo nella pagina motori e verifichiamo anche questa volta che non ci siano errori. Sempre con eliche rimosse collego la batteria e attivo il controllo motore. Anche questa volta nessun errore, e anche questa volta un errore sotto l'1% è tollerabile. Sebbene io non ho avuto nessun errore vediamo cosa fare se effettivamente riscontriamo degli errori con il controllo motore. La probabilità di errore è correlata al carico della CPU che deve rimanere preferibilmente sotto il 15%. Su Schede F7 il processore è abbastanza potente per gestire tutti i parametri senza problemi, mentre su Schede F4 già se abbiamo un CPS, telemetria della VTX e altre periferiche, il carico della CPU potrebbe salire e di conseguenza generare degli errori. In questo caso possiamo ridurre la velocità del D Shot portandolo a 300, questo fa sì che anche il PID Loop venga abbassato a 4KHz. Come vedete la frequenza si è abbassata automaticamente a 4KHz, e il carico della CPU è sceso intorno al 4%. Se avete ancora degli errori potete valutare di abbassare il D Shot a 150, e di conseguenza i PID a 2KHz, anche se difficilmente dovreste avere bisogno di fare questa operazione. Dopo aver verificato che i motori non danno nessun errore andiamo a sistemare velocemente i filtri di Betaflight. Ci spostiamo nella pagina PID e andiamo nel tab Filter Settings. A questo punto assicuratevi di impostare il Gyro e il Notch esattamente come li vedete qui. Attivate il Gyro RPM Filter lasciando le armoniche a 3 e la frequenza a 100. Per quanto riguarda il Notch Filter portiamo la percentuale a 0, il Notch Q lo mettiamo a 200, il minimo a 90, e il massimo a 350. Queste configurazioni sono necessarie in quanto attivando gli RPM Filter liberiamo il Notch Filter dal controllo motori, quindi lo impostiamo per filtrare il rumore su frequenze più basse. A questo punto abbiamo finito, con gli RPM Filter attivati il drone dovrebbe già volare decisamente meglio. Sul campo però potete fare delle prove, muovendo questi sliders a destra o a sinistra. In linea di massima più la build è nuova più potete spostarvi verso destra, mentre se avete un drone con motori e frame che hanno preso svariati colpi potete spostarvi a sinistra. Mi raccomando non portate assolutamente le slider direttamente agli estremi, ma muovetevi partendo dal centro spostandovi piano piano a destra o a sinistra. Fate sempre dei voli di prova da 30 o 40 secondi per vedere se i motori diventano troppo caldi, in questo caso tornate indietro di qualche passo. Molto bene, su Betaflight abbiamo finito. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial per configurare gli RPM Filter su Betaflight, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.